I mercati continuano a crollare, il Nasdaq fa segnare un meno 26,82% da inizio anno, lo Standard & Poor's invece è a meno 18,82%, poi abbiamo il DAX, l'indice tedesco, a meno 19,79% e poi abbiamo il nostro FTSE MIB a meno 19,15% da inizio anno. Purtroppo mi duele dirvi che secondo me siamo solo all'inizio, gli indici mondiali potrebbero perdere oltre il 50% e in questo video vi spiegherò perché penso potrebbe andare così. Tra le altre cose vi mostrerò anche un interessante report di Goldman Sachs, però iniziamo con un tweet che ho condiviso sul mio gruppo Discord l'altro giorno, Stan Druckenmiller, uno dei migliori investitori della storia ed ex braccio destro di George Soros, ha detto secondo me c'è un'alta probabilità che nel migliore dei casi il mercato sarà piatto per i prossimi 10 anni, come tra il 66 e l'82, ma la cosa bella è che in quel periodo alcune società hanno fatto molto bene, per esempio Apple e Home Depot sono state fondate in quel periodo. Chiaramente nessuno ha la sfera magica, nessuno può prevedere cosa succederà nei prossimi 10 anni, però se c'è qualcuno che potrebbe andare vicino a fare una previsione sensata, quello è sicuramente Stan Druckenmiller, che è uno dei migliori trader investitori della storia, ha una strategia molto particolare, mette insieme analisi fondamentali, analisi macro e analisi tecnica. E correggetemi se sbaglio nei commenti, ma la sua performance media annualizzata dovrebbe essere intorno al 30%, quindi una strategia che per lui funziona molto bene. Probabilmente quello che lo porta a sostenere questo sono le alte valutazioni del mercato, ad esempio abbiamo azioni come Apple e Microsoft che hanno price earning forward intorno a 25, su previsioni molto ottimistiche. E se ci pensate queste due azioni sono una fetta molto importante dello Standard & Poor's 500, quindi se dovessero iniziare a crollare si porterebbero giù tutto l'indice, e ancora non hanno iniziato a crollare, sono molto alte. Ma adesso andiamo a vedere l'indicatore più interessante di tutti. Di questo vi avevo già parlato 11 mesi fa, dicendovi che il mercato azionario probabilmente sarebbe crollato, e così è stato, questo indicatore non sbaglia veramente un colpo. E attenti, non sono un genio io ad aver predetto sto crollo, ma sono dei geni quelli che hanno creato questo indicatore. Cioè Goldman Sachs, quello che state vedendo è il Goldman Sachs Bear Market Indicator. Le colonne blu sono i bear market che ci sono stati nella storia, e come vedete l'indicatore ha praticamente predetto ogni bear market della storia. Quando l'indicatore arriva vicino alla zona rossa è molto probabile che il mercato vada a crollare. Il rischio va ad aumentare, quindi essere esposti pesantemente all'azionario diventa più rischioso. Quindi al momento, a mio avviso, le probabilità restano dalla parte di un crollo, anche se i mercati sono già scesi molto. A mio avviso questa volta potremo vedere i mercati a meno 50% o addirittura di più. Spero che tutti coloro che stanno investendo sul mercato siano pronti a questa eventualità, perché se non succederà questa volta, prima o poi succederà. Prima o poi vedremo il mercato a meno 50% o forse anche di più. Vi lascerò il link di questo report di Goldman Sachs perché è veramente molto interessante. Adesso lo riassumerò molto brevemente, però se volete vedere i minimi dettagli andate in descrizione e troverete il link. Questo è un simpatico dettaglio dei bear market della storia fatto da Goldman Sachs. Come vedete, mediamente, un bear market dura 26 mesi, la mediana invece è 17 mesi. Perciò potremo essere ben lontani dalla fine del nostro simpatico bear market. E in media per recuperare il terreno perso e tornare ai precedenti massimi ci vogliono tra i 58 e i 77 mesi, con una mediana tra 35 e 36. Perciò la strada potrebbe essere ancora lunga, potremmo soffrire ancora un bel po'. Chiaramente questa è una cosa a cui si deve essere preparati se si vuole investire. Se non eravate pronti a una cosa del genere vuol dire che siete degli sprobeduti, senza offesa. Ogni investitore deve sapere che prima o poi si beccherà un super crollo. È una prerogativa degli investimenti. Se non volete beccarvi crolli di questo tipo, non investite. È molto semplice. Interessante questo grafico in cui Goldman Sachs mostra la differenza di valutazione tra le azioni non statunitensi, quindi le azioni mondiali esclusi gli Stati Uniti, e le azioni USA escluse il settore tecnologico. Come vediamo, le valutazioni delle azioni americane sono molto più alte rispetto a quelle delle azioni non americane. E possiamo dire che le valutazioni delle azioni non americane sono piuttosto basse. Però questo solo se le previsioni degli analisti sugli utili delle società quotate fossero corrette. Se non dovessero essere corrette, questo price earning medio potrebbe essere completamente sbagliato. Le valutazioni delle azioni americane invece sembrano essere ancora piuttosto alte rispetto alla media storica dal 2000 ad oggi. Qua Goldman Sachs ci dice quali sono le quattro condizioni generali per capire se potremmo essere la fine di un bear market. Se quindi il mercato potrebbe essere prossimo ad un recupero. E queste condizioni sono valutazioni molto basse, il raggiungimento di un minimo nel tasso di deterioramento dell'attività economica. Questo potrebbe essere ad esempio un rallentamento del peggioramento del PIL o del PMI. La sensazione è che i tassi di interesse e l'inflazione siano al picco. Già questo è molto teorico come punto, molto difficile da stabilire. E per ultimo abbiamo negative positioning. Questo significa sostanzialmente che gli investitori sono posizionati principalmente short sul mercato e che il sentiment sul mercato è molto negativo. Quindi al momento non abbiamo valutazioni molto cheap, molto basse. Come dicevamo prima Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla hanno tutte valutazioni molto alte. Poi si trovano anche azioni che sembrano molto ma molto sottovalutate. Vedo spesso in giro PE di 5, 6, 10. Ci sono PE molto bassi in giro anche in società di grande valore. Però generalmente, soprattutto le large cap, sembrano avere valutazioni un pochino alte. Sicuramente non sono valutazioni da capitolazione, da totale devastazione. Poi non sembra sia stato raggiunto il minimo nel tasso di deterioramento dell'economia. Anzi, sembra che stia appena iniziando. Siamo molto lontani dalla fine del calo economico che deve tendenzialmente ancora iniziare. Infatti il PMI, come abbiamo visto in altri video, è sempre sopra 50. Perciò il deterioramento deve ancora iniziare. Probabilmente il rialzo dei tassi e l'inflazione non sono ancora al picco. Si pensava che l'inflazione avesse raggiunto il suo picco, ma dopo l'ultimo dato non lo pensa più nessuno. Perciò diciamo che il punto 3, forse quello più controverso, è un po' più difficile da stabilire rispetto agli altri. Per quanto riguarda il punto 4, Goldman Sachs ci dice che l'oro, indicatore di sentiment, si è indebolito molto nei recenti mesi, però secondo l'oro non è ancora a livelli di minimo. Quindi la mia conclusione è che nonostante i mercati siano già crullati veramente molto, potremmo essere ben lontani dai minimi. Per il momento non vedo grosse motivazioni per cui il mercato dovrebbe recuperare. Le valutazioni generali non sono poi così basse, la situazione macroeconomica è in peggioramento, adesso arriverà l'inverno con bollette estremamente saliate e anche i risultati delle singole aziende sembrano essere in peggioramento. Perciò, a mio avviso, le probabilità restano ancora dalla parte di una continuazione del crollo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Secondo voi il mercato continuerà a crollare oppure il trend invertirà a breve? Fatemelo sapere nei commenti. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video con tutte le persone che conoscete. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti. Ciao!